Continuo a vedere la faglia crescere. Non so che significa. Non sono incubi, no. È tutto vero. Ora credi di sapere chi sei perché hai sofferto? Non capirai mai quanto sia profonda la tua anima. Finché la sofferenza non ti condurrà al sacrificio. Ma rimane la domanda. Sei pronta a sacrificare ciò che per te è più prezioso? Grazie. Grazie. Grazie a tutti.